Nella nuova stagione, la serie TV Children of Evan incontrerà il pubblico sugli schermi TRT1. Il fatto che le riprese inizieranno nella prima settimana di ottobre aumenterà ancora di più l'entusiasmo del pubblico. È aumentato. Si pensa che sostituisca serie che hanno avuto un grande successo per due stagioni, come In Assand L'Apartement. Il fatto che Figli del Cielo sia un progetto efficace in termini di profondità psicologica. Aspettare. Il progetto, che è stato portato alle riprese dopo lunghi preparativi preliminari da parte di una delle aziende esperte del settore come Goldfilm, attira maggiormente l'attenzione. Adattata dal libro di Atkins Le Reartesse End, la serie presentava nomi molto importanti come Eika Bingol, Alpnavruz, Remel Vacolu e Mesut Acusta. Nei ruoli secondari della serie ci sono nomi esperti come Dilara Aksuiek, Semaltoktas, Bitter Dinchel. Potrai vedere Alpeycar, che ha ricevuto grande attenzione come attore bambino nella serie TV Unfaithfall, nel progetto chiamato Children of Evan nella nuova stagione. Si sono svolte le prove di lettura per la serie, che sarà diretta da Serdar Gozelecli, e i preparativi per le riprese sono stati spostati alla fase finale. Dall'inizio di ottobre, i fan della serie hanno atteso con impazienza i post dal set. Molte pagine di fan sono state aperte per la serie sui social media e varie informazioni vengono condivise attraverso queste pagine e si tenta di raggiungere un vasto pubblico. Soprattutto i fan, che conoscono le scelte giuste nelle preferenze di Alpnavruz, sono molto curiosi del suo nuovo ruolo e della sua storia. Inoltre, dopo il successo di Remel Vacolu nel progetto Disney Plus Escape, tornare sui set e interpretare la protagonista femminile, una delle serie TV più influenti della nuova stagione, è stato uno sviluppo che ha reso felici i fan. Mentre i fan della serie si chiedono come appariranno sullo schermo questi due nomi, i social media parlano da tempo dell'idea che questa sia stata una scelta di grande successo. L'elevata energia e l'efficace armonia di Alpnavruz e Remel Vacolu sono tra i fattori più importanti per il successo della serie. Se ai fan della serie piacerà la coppia principale, le possibilità del progetto Children of Evan di avere una vita sullo schermo più lunga e ricevere valutazioni più forti aumenteranno. Remel Vacolu, che vedremo nei panni dell'avvocato Zeynep, tornerà sullo schermo con il personaggio di Alil. Se va molto bene, Alpnavruz è la serie più chiacchierata sui social. Sembra inevitabile che diventino una coppia.